Via Rotondella, Selva di Chiaiano, che dovrebbe essere uno dei polmoni di verde di Napoli, in questa zona che è stata negli anni ferita dalle cave di Tufo, sferita da danni ambientali di ogni tipo. Una zona che adesso vorrebbe trovare un po' di vivibilità. Vivibilità significa anche sanare gli obbrobri che sono stati creati in questi anni. Qui c'è Fortunato Sommella, basterebbe dire Fortunato Sommella, politico di lungo corso, ma soprattutto combattente per la sua zona, lì e di queste parti. Con il Consiglio Comunale, con il Comune di Napoli ha avviato un'avvertenza lunga. Adesso è per questo rudere che vediamo sulla nostra destra. Doveva essere una scuola, scuola non è mai diventata Fortunato, ribadisce una scuola abusiva perché non ha il progetto, non c'è progetto, non è prevista da nessuna parte e intanto c'è un lungo contenzioso con la ditta appaltatrice che evidentemente ci chiede soldi per questa costruzione e che ha fatto in completo un monumento allo spreco e all'inefficienza. La storia, Fortunato Sommella, di questo rudere, diciamo, è un rudere. Inizia il tutto negli anni 2000-2002. Parliamo di iniziative che partono da chi ha occupato il territorio a livello di rappresentanza elettiva. Che significa occupare il territorio? Significa che qui la politica è di basso livello. Cioè la politica non tende a creare la rappresentanza vera di questo territorio. Allora si verifica che il personaggio tizio... Che è stato fatto, Fortunato? Il personaggio sembronio si danno da fare per fare i piccoli favori e per creare, come hanno fatto in questa occasione, parliamo di un suolo comunale sul quale è stata avviata la costruzione di una scuola in una maniera alquanto anomala. Infatti se noi vediamo qui non c'è nessun cartello che dice sta realizzandosi una scuola per iniziativa comunale. Né ci sono i nomi né dell'azienda che deve costruirla, non ci sono i nomi dei geometri, non c'è il nome del progettista, non c'è niente. Ci sono soltanto degli articoli di giornale che parlano di un consigliere che si è dato da fare negli anni per far costruire questa scuola che doveva ospitare 400 luoghi. E qui non servirebbe a nulla vista l'impervietà della zona. E qui io mi pongo l'interrogativo e chiedo a questo consigliere e a tutti gli altri che dicono di rappresentare questa zona ma l'hanno semplicemente occupata per regalarla ai personaggi della politica che con prebende varie e sotto vari aspetti restituiscono qualcosa a questa gente che si muove sul territorio. Questa scuola nasce nello stesso anno di una scuola progettata che riguardava la legge Falcucci che doveva incrementare la scuola media Musto qui a Nazaretta ai Camaldoli e c'era un suolo prospiciente l'attuale edificio scolastico della Musto proprio dinanzi alla stessa invece di realizzare quel progetto in quella scuola finanziato regolarmente degli anni andati l'hanno portato e lo hanno realizzato su un suolo di proprietà dei Gesuiti e la scuola sempre nata intorno a quegli anni non è stata ancora aperta e siamo nel 2022 e allora quella scuola lì che sostituiva la scuola Musto sostituiva altre due scuole una scuola materna e una scuola elementare sta ancora lì fa bella mostra di sé a Cappella Cangiani impedendo una rivoluzione del traffico a Cappella Cangiani. Quanti soldi sono stati spesi inutilmente? Noi parliamo di diversi miliardi di euro però le cose strane sono queste che nel bilancio per la costruzione della scuola di Cappella Cangiani non è stato messo il costo del suolo e allora i Gesuiti hanno denunciato il comune e si è sbloccata questa situazione di recente infatti hanno appaltato la definizione e quindi i lavori ultimativi di quella scuola che però ancora rimane chiusa e non consegnata al comune una storia di inefficienza incredibile da parte del comune il comune che dice? Il comune parla attraverso, io penso che la stampa raccolga opinioni da parte del comune e se la rapportiamo a quanto è stato descritto per quanto riguarda questa scuola in località Rotondella che come vedete è isolato dal resto del mondo siamo in piena selva di Chiaiano, portate i bambini qua giù io voglio vedere come si portano questi bambini qua giù quella scuola hanno detto che mancano soltanto le rifiniture bisogna mettere soltanto i balconi, le finestre e tutto quanto il resto qua non c'è niente Ma intanto non ci sta nessun progetto di recupero non abbiamo niente perché non si riesce ad avere i documenti necessari per poter dire sì, questo è quello che stanno realizzando Hai fatto una richiesta di accesso agli atti? Gli accessi agli atti, noi pensavamo che questa situazione qui fosse definitivamente stata messa fuori gioco invece riappare sulla stampa cittadina nei giorni scorsi, parliamo di due o tre giorni e nasce come scandalo perché? Perché hanno riposto all'attenzione del nuovo sindaco la questione, si è riunita la commissione ad hoc del comune con il provveditore praticamente che sovraintenda i permessi necessari e si è scoperto che non c'erano le dovute licenze perché non potevano essere rilasciate in quanto mancava il parere positivo della sovraintendenza ai beni paesaggistici praticamente e non c'è... E non era un parere che si doveva dare prima dell'approvazione? Certamente, ma siccome qui è nata, ripeto, in maniera anomala hanno praticamente... ci sono delle connivenze tra politici, uffici delle istituzioni, uffici tecnici ecco, presidenze delle istituzioni e politici centrali perché? E qui ne pongo un altro all'attenzione perché devono rispondere questi signori perché arrivato a questo punto noi parliamo di circa 6 milioni di euro a chi li paga 6 milioni di euro? Io dico che chi sbaglia deve pagare La ditta che dice? Che sta facendo? Ma la ditta non si sente perché la ditta è stata quella che ha scoperto che non c'erano le licenze E lo ha denunciato? Lo ha denunciato però soltanto adesso si è arrivato al dunque perché il provveditore ha detto io questa situazione la mando alla procura Ma la ditta lo ha denunciato ai giornali o alla procura? L'hanno fatto in maniera soft perché all'interno non si è saputo niente di tutto questo soltanto adesso si sa che finalmente la procura della Repubblica ha avuto l'incartamento necessario per poter indagare Incartamento da chi? Dove è stato? Dal comune di Napoli Ecco, quindi anche il comune si vuole cautelare su questa vicenda Il comune perché si è fatto questa riunione è perché il provveditore ha voluto porre fine a questa cosa ha detto in maniera definitiva mancano le licenze la scuola cioè quello che è stato costruito è un manufatto abusivo va abbattuto E c'è già qualche ordinanza qualcosa su questo? No perché deve provvedere il comune e quindi vediamo adesso dalle intagini che farà la procura della Repubblica le responsabilità e quindi il provvedimento Secondo la tua esperienza di amministratore il comune potrebbe sanare in qualche modo? Il comune io penso che non possa sanare niente a meno che non convince il provveditorato alle opere pubbliche praticamente in quale maniera io non lo so a convincere che qui vada fatta una scuola qui non può essere fatta la scuola qui è una cosa strana qua c'è una cava di pietre qua sotto qua c'è qualcosa di strano di molto strano poi io vedo tutto in questa area vedo tutta questa roba che 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 ma devono fare un collettore ho visto più giù un collettore che cosa e sta scuola praticamente come fa a nascere? come fa? ma poi avete visto sta strada? non ci passa neppure un'auto e come si fa? un pulmino come verrebbe? è allucinante è allucinante per chiudere questa questa denuncia su uno dei luoghi più belli di Napoli devastato da abusivismo da incuria e da inefficienze fortunato sommelle che si deve fare? si deve fare un'indagine la procura della Repubblica deve andare a fondo di questa situazione e indagare anche sulla rappresentanza elettiva di questo di questa area vasta che è formata sempre e costantemente dalle stesse persone le quali ci hanno passato la vita dentro le istituzioni e hanno fatto hanno rovinato hanno posto veramente in miseria la collina di Gamalto hanno offuscato quello che è di bello e di grande e di valore aveva la collina di Gamalto e allora bisogna andare a fondo per fare chiarezza se fossi il procuratore della Repubblica onestamente farei emettere un provvedimento di restrizione per tutti quanti fino ad arrivare alla restrizione di tutta la vicenda che riguarda la collina di Gamalto e adesso per fare chiarezza fortunato sommella una battaglia dura durissima ma la sta facendo con i documenti alla mano creando anche delle sponde con i cittadini le associazioni su questo territorio vuole fare chiarezza e noi saremo con i nostri riflettori con le nostre telecamere con i nostri microfoni qui nel momento in cui un po' di chiarezza viene fatta io mi auguro che veramente la chiarezza venga fatta mi auguro e qui io rivolgo un appello guardate siccome la rabbia viene fuori nel momento in cui bisogna esprimersi e in una certa maniera io dico mi voglio rivolgere ai camaldolesi guardate ai camaldolesi originari e a colori quali sono residenti sulla collina dei camaldoli si devono svegliare tutti quanti dal sonno ci hanno messo in rovina io ci sto da circa 70 anni ad abitare ai camaldoli poteva diventare qualcosa di veramente grosso l'hanno ridotta ai minimi termini se c'è da riprendere qualcosa bisogna farlo tutti quanti insieme lo devono fare i residenti a prescindere dalle attuali rappresentanze politiche un forte personale dico organizzatevi organizzatevi i camaldolesi perché non è giusto che un valore di tale genere vada buttato nella vergogna più assoluta un appello forte da un camaldolese ai camaldolesi salvaguardiamo la nostra terra salvaguardiamo la nostra comunità facciamo chiarezza soprattutto facciamo giustizia sugli sprechi grazie fortunato grazie a voi per l'attenzione che state ponendo sulla collina di camaldoli grazie a tutti